tu perché non fatti youtube il cemento di gacciatore io da morì il massimo ho visto quando stavi con il lucrastone lì che gli dava le zammate il muflone l'ho visto allora massimo andiamo più avanti è proprio il gioco e poi dopo vieni qua 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 basta che vieni qua guardiamo qui vieni qua 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 lei c'è anche più luca sta fermo cani non fate la falsa sopra meno no Ma no, che stava? Stava un'antica tuttima, eh? Stava un'antica tuttima, non è che si scappa sopra, no? Eh, attenti, se si scappa sopra, stavano tutte guardate su, eh? No, si scappa sopra buono. Eh, no, ma anche là, ti avrete. Eccola, 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 la vedi?